Vogliamo evitare che i giovani si droghino e pensiamo che la cannabis è una droga. La legalizzazione della cannabis porterà i giovani comunque ad essere autorizzati a drogarsi. Noi pensiamo che la cannabis deve essere repressa, che sia stato un errore dividere ancora nei reati penali le droghe leggere dalle droghe pesanti. Noi pensiamo che la droga sia droga, pensiamo che la cannabis faccia male perché è altresì vero che ci sono stati in commissione alla Camera e al Senato tantissime audizioni dove comunque i risultati non sono quelli che diceva dalla vedova prima. Ci sono anche tantissime teorie di danni cerebrali forti, ci sono tantissime teorie, verifiche rispetto anche di medici e di tutto il settore sanitario. E in più anche dal punto di vista della sicurezza e della repressione di questo mercato nero, anche nella pubblica sicurezza, nella pubblica autorità di sicurezza, si dice che la legalizzazione della cannabis potrebbe essere la causa di una pianta logistica in Italia del mercato della cannabis in tutta Europa. Allora io credo che dal punto di vista... Posso però sottolineare l'aspetto, cioè quello che diceva il senatore Dalla Vedova era la repressione ha fallito, cioè non siamo riusciti a impedire che in realtà più del 90% degli adolescenti, dei ragazzi, lo sappiamo benissimo, abbia fumato, si sia fatto uno fine all'eccetera eccetera. Se la repressione ha fallito e i risultati della repressione non sono soddisfacenti, e questo è assolutamente vero, non è detto che dalla repressione si possa passare alla legalizzazione. Se la repressione ha fallito, ma ripeto stiamo parlando di droga, probabilmente dobbiamo trovare un altro metodo per evitare che i giovani si droghino. Noi pensiamo questo, ma ci sembra un pensiero dal punto di vista etico, anche morale, assolutamente legittimo. E ce l'avete un altro metodo? Beh, guardi, c'è un altro metodo, un altro metodo dal nostro punto di vista, noi crediamo che la repressione non sia stata così efficace perché di repressione non si è trattato. In alcuni, spesso e volentieri, anche i mezzi messi a disposizione dalle forze dell'ordine e dal governo, non sono stati poi così tanti come pensiamo per poter reprimere un mercato nero che c'è, ma è un mercato di droga e continuerebbe a dirlo.